Allora, siete pronti, fratelli miei? Sì! Sta per arrivare, lo sentite? Ecco il tuono che tremi la terra! Sì! Vai! Tutti con me al grido di avanti e giù! Sì! 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 Si affretteranno a seguirti, vacilleranno, cadranno. Ma col tempo si uniranno a te nella luce. Col tempo li aiuterai a compiere meraviglie. Cosa significa la S? Stella!